Massimiliano Pederzoli, Presidente regionale di Ambi Emilia Romagna, Presidente, un bilancio quello che hanno tracciato i presidenti dei suoi colleghi dei consorsi di bonifica di criticità, stress e problematiche dovute all'abbondante quantità di acqua caduta, ma una gestione che ha saputo porre rimedio diciamo in tempo adeguato a quelle che sono stati anche i due casi principali di negatività come per esempio le esondazioni di corsi d'acqua naturali a cui la bonifica porre rimedio nel momento in cui si rompono gli argini. Al di là di questo continua anche l'attività costante in montagna per quelli che sono i capillari interventi nella lotta contro il dissesto idrogeologico e per ultimo una serie di progetti che hanno dimostrato capacità dal punto di vista della risposta, dal punto di vista tecnico e amministrativo degli enti alle necessità dei cittadini per il PSR e il PSRN. Un anno finito, importante e ancora di più quello che sta per cominciare. Sicuramente un anno importante perché i consorsi hanno dato l'ennesima risposta qualora ce ne fosse stato bisogno di quelle che sono le loro capacità operative. Le piogge battenti dell'autunno del 2019 e anche le esondazioni che ci sono state, rotture originali, di taluni corsi d'acqua naturali, hanno messo alla prova il sistema consortile che ha risposto puntualmente con i canali, col sistema delle acque basse, che ha raccolto le acque di esondazione, le hanno riportate negli alve giusti e scaricate dove le doveva scaricare. Quindi questa è una risposta sicuramente importante che è stata data anche in passato ma che è stata data anche quest'anno. In più i consorsi hanno dimostrato ancora una volta una grande capacità progettuale per quello che riguarda i progetti sul piano di sviluppo rurale, sul piano di sviluppo rurale nazionale, sia per quello che riguarda l'irrigazione, per quello che riguarda anche le frane, perché è il discesso idrogeologico. Insomma le strutture tecniche consortili sono strutture molto importanti, professionalmente molto preparate, che sono in grado di dare quelle risposte dove altri soggetti che operano nel settore del pubblico non sono in grado di utilizzare anche per carenza di risorse, ma soprattutto per carenza di investimenti sulle risorse umane, sui tecnici che troviamo di fronte a situazioni di autorità di bacino che hanno comunque delle strutture abbastanza esigue. I consorsi di bonifica attraverso ovviamente il contributo consortile che i proprietari di immobili pagano annualmente, i consorsi sono in grado di tenere in piena funzione, di avere dei tecnici di ottima qualità, anche del personale operativo sul territorio, il personale che sono in grado di mettere a disposizione i consorsi di bonifica, non è facile trovarlo in altre entità, tutto professionalmente, come dicevo, molto preparato, questo ci consente di quando ci sono questi bisogni che sono dettati anche in gran parte dal cambiamento climatico, perché prima magari passa un'estate che non piove, ci dobbiamo impegnare parecchio sul fronte dell'irrigazione, poi ci ritroviamo dopo pochi mesi invece che abbiamo le alluvioni, quindi insomma dobbiamo essere pronti per il tutto e il contrario di tutto. Non possiamo tenere specie che non sono nemmeno autotone come la nutria, perché sono state introdotte artificialmente per fare il famoso castorino, per fare delle pellicce là negli anni 60, poi l'esperimento è fallito, sono state liberate, non ha predatore naturale, si moltiplica come i topi, ci ritroviamo gli argini dei fiumi e alle volte anche quelli dei canali che sono dei groviera, quindi questa è una specie da eradicare senza se e senza ma e su questo la regione Emilia Romagna avrebbe dovuto prendere dei provvedimenti che non ha preso e che ha sempre rimandato. L'altra questione per contribuire a far sì che queste specie siano così dannose, che diventino meno dannose è quella di mantenere puliti gli alvei dei fiumi. Gli alvei dei fiumi invece ci sono delle realtà dove sono praticamente dei boschi e questo comporta che c'è più facilità in mezzo ai rovi, in mezzo a tutto quello che c'è da parte di questi animali di fare le tane, poi magari ci sono alberi che durante le fiumane cadono nell'alveo dei fiumi, poi fanno delle dighe quando passano sotto i ponti e abbiamo delle giondazioni. Insomma gli alvei dei fiumi e anche dei corsi d'acqua naturali, specialmente dalla via Emilia in giù, devono essere puliti perché il sistema idraulico dell'Emilia Romagna, quello dei fiumi, dei corsi d'acqua naturali funziona che una volta che i fiumi superano la via Emilia diventano dei peduncoli arginati nella maggior parte che portano le acque dei fiumi o al Po per gli affluenti dei Po o al Reno oppure al mare come succede in Romagna. Questi alvei dovrebbero essere puliti.